In concomitanza con l'avvio del servizio di rifezione scolastica presso gli istituti di Castellabate, l'amministrazione ha definito un piano di intervento per le agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie che richiedano a fronte di comprovati redditi l'esenzione o la riduzione del pagamento del blocchetto pasti per gli alunni. L'accesso ai benefici avverrà attraverso apposita istanza da scaricare sul sito istituzionale del Comune www.comune.castellabate.sa.it è disponibile presso l'ufficio pubblica istruzione in via Roma Santa Maria di Castellabate. Il modulo compilato e corredato dai documenti richiesti va presentato al protocollo dell'ente entro e non oltre il 30 ottobre prossimo. Per l'accesso all'esenzione sono richiesti la residenza nel Comune della Famiglia e dei Figli, la frequenza della scuola dell'infanzia del territorio comunale, un reddito familiare ISEE fino a 3.000 per esenzione del 100% oppure un reddito familiare ISEE da 3.000 fino a 5.000 euro per esenzione del 50%. La distribuzione dei blocchetti mensa ai beneficiari verrà effettuata a seguito di formulazione e pubblicazione delle graduatorie. Al fine di garantire un supporto economico alle famiglie disagiate, messe a dura prova anche a causa della crisi Covid, l'amministrazione, come già fatto lo scorso anno, ha previsto di prorogare l'esenzione totale o parziare della spesa per il blocchetto mensa, dichiara l'assessore alla pubblica istruzione e politiche sociali Elisabetta Martuscelli. Verranno predisposte dall'ufficio le graduatorie in base al reddito fino ad esaurimento dei fondi, un piccolo gesto che può fare tanto all'interno di un bilancio familiare.